Ciao a tutti, oggi sono qui per parlarvi finalmente del grande sabotaggio del DNA e dell'RNA e di come ci hanno manipolati geneticamente per dare vita a quello che oggi conosciamo come uomo moderno, cioè noi. Loro diciamo che hanno operato su una materia già esistente perché come vi dicevo, e per questo ragazzi vi consiglio di guardarvi i video precedenti, loro non possono creare dal nulla qualcosa, devono necessariamente operare su una materia che già esiste. Nel video precedente vi ho parlato, o meglio vi ho introdotto, lo splicing, lo splicing sostanziale a cui noi siamo stati sottoposti. Che cos'è lo splicing? Un metodo di manipolazione della genetica. Attraverso lo splicing si può manipolare la genetica umana, cosa che è stata fatta proprio su di noi da questi esseri in origine, perché come vedremo oggi il DNA non è, o meglio non era come è oggi, mancano delle parti, delle parti molto importanti, che secondo me sono state escluse, manipolate e riprogrammate proprio per renderci più docili, più schiavi, più deboli dal punto di vista mentale e meno anche combattivi, no? Perché a volte è come se noi avessimo dentro questa condizione di schiavi. Ah sì, poveri noi, ah sì, poveri noi, insomma siamo molto più, io parlo di questi tempi, no? L'uomo moderno è più propenso a cadere nella trappola religiosa, nella trappola politica, in queste prigioni vibratorie che sono state costruite proprio per intrappolare la nostra coscienza, quando la nostra coscienza in realtà non ha bisogno di essere intrappolata in nessuna prigione vibratoria, perché noi siamo già tutto ciò che è, tutto ciò che è stato e tutto ciò che sempre sarà. Ricordatevi che noi siamo pezzi, ma nemmeno pezzi, diciamo parti, ecco, forse parti è meglio di pezzi, di quella creazione una che viene chiamata Dio, quindi in ognuno di noi c'è quella parte di Dio, nessuno escluso, ecco perché vi dico, quando incontrate persone che vogliono ergersi a non so che, diffidate sempre, ma iniziamo, iniziamo sempre libro, imbroglio della realtà e l'inganno della percezione. Ah ragazzi, devo darvi una novità, perché qui sono con il mio quaderno nero, perché nero? Perché qui io ho tutti gli appunti di storia, tutta la storia manipolata, tutti i fatti come sono realmente accaduti e io voglio condividerli con voi. Parleremo innanzitutto della nascita e della scoperta manipolata degli Stati Uniti d'America, parleremo di Caboto, parleremo di Colombo, parleremo dei primi presidenti americani, quindi Adams e Washington, parleremo di come sono nate proprio in quel periodo tante tante società segrete, la gran loggia madre, parleremo anche della frammassoneria, della massoneria e di come la scoperta dell'America sia stata in realtà manipolata, quindi io vi parlerò di tutto, parleremo anche della cartina di Piri Reis, questi sono tutti i miei appunti che voglio condividere con voi, parleremo anche del manoscritto e appunto di come tutto è iniziato. Come potete vedere qui ci sono i primi presidenti degli Stati Uniti, George Washington e appunto qui in basso John Adams. Parleremo di tutto ragazzi, non vi preoccupate, volevo semplicemente dirvi questo, che presto sul canale comincerò a parlarvi anche di storia e forse riuscirò anche ad appassionare qualcuno di voi alla storia, perché mi rendo conto che la storia così come viene insegnata nelle scuole è molto noiosa, invece se scusatemi si riesce a comprendere la storia, in automatico si riescono anche a comprendere quelli che sono gli eventi che caratterizzano la nostra società in questo momento e quello che potrebbe accadere in futuro e andremo a capire anche che tutto è connesso, coloro che hanno fatto parte del passato sono connessi con coloro che governano nel presente e vi parlerò in modo molto molto approfondito, preparatevi di Meyer Amschel Rothschild, cioè Meyer Amschel Bauer, parleremo della famiglia Rothschild, di come si sono stanziati in tutto il mondo e del dominio delle banche, perché è da loro che tutto è nato, quindi affronteremo la storia, insomma affronterete, apprenderete un po' di storia con me e spero comunque di portarvi, diciamo spero di spiegare le cose al meglio. Comunque adesso chiudiamo la parentesi, volevo dirvi questa novità e cominciamo subito. Un altro modo, ci scrive Ike, per modificare la genetica umana consiste nel codificare campi in forma d'onda con nuove informazioni olograficamente decodificabili in una mutazione genetica, oppure è possibile trasmettere informazioni sulla gamma di frequenza della genetica umana per innescare i cambiamenti nella struttura corporea. Qui ragazzi perché parla in questi termini? Perché fondamentalmente noi siamo energia, noi siamo energia che sta facendo esperienza in un corpo fisico solido che in realtà non esiste perché è materia, la materia concreta, la solidità, la fisicità non esistono. Il nostro corpo computer biologico è un mezzo che ci permette di decodificare questa realtà. Quindi se questa realtà è olografica ed è una simulazione anche i nostri corpi sono olografici e dal punto di vista vibrazionale ed energetico possono essere manipolati in ogni modo. Come ricorderete gli scienziati russi hanno trasformato embrioni di rana in embrioni di salamandra trasmettendo modelli informazionali del DNA di quest'ultima e come descrive l'articolo già citato, per via della forma caratteristica di questa gigantesca molecola, una doppia elica, il DNA rappresenta un'antenna elettromagnetica ideale. Da una parte è allungata, quindi è una lama in grado di raccogliere molto bene gli impulsi elettrici, dall'altra si è osservata dall'alto alla forma di un anello e quindi è un'antenna fortemente magnetica e capirete adesso quanto è stata veramente importante la loro manipolazione. Molti sono i modi in cui la genetica umana può essere stata modificata, cosa che accade tuttora e come accade attraverso le quello. Ecco perché loro spingono letteralmente le persone con l'inganno e la bugia a fare le per modificarle ulteriormente dal punto di vista genetico. Quindi non è una cosa che è avvenuta in origine, punto, lì si è fermata. No, è una cosa che prosegue, proseguirà, se l'umanità non si sveglia, non si dà un bello scossone e non dice no prima che tutto questo comincia a diffondersi. Ma la domanda successiva è perché? Perché lo fanno? Qual è la finalità? L'articolo sopracitato, quello in cui praticamente vi ho letto la descrizione del DNA, ci fornisce la risposta e ci rimanda le fondamenta su cui poggiano il controllo e la manipolazione ai danni dell'umanità. I temi trattati nei film della serie Matrix si basano sul fatto che quella che sperimentiamo è una falsa realtà, una falsa realtà che è stata ottenuta sabotando la realtà umana che esisteva precedentemente e che ancora esiste. Esiste sì però oltre, oltre le pareti della matrice, oltre le pareti vibrazionali della matrice. La matrice arcontica trasmette su una specifica banda di frequenza e il DNA che nell'articolo che vi ho letto, cioè nel pezzetto di articolo che vi ho letto, viene a tutti gli effetti paragonato ad un'antenna, quindi il DNA umano è stato manipolato per ricevere e trasmettere nell'ambito di quella stessa banda. Allora, ora io devo farvi un esempio per farvi capire. Il nostro DNA, ecco, pensate al DNA come un'antenna in grado di ricevere. Gli arconti mandano un segnale e questo segnale non è altro che la realtà olografica in cui noi ci ritroviamo a vivere, quindi gli arconti mandano questo segnale e dopo aver ovviamente modificato il nostro DNA, rendendolo un'antenna perfetta per decodificare quel loro particolare segnale, noi attraverso questa struttura riceviamo questo segnale, lo interpretiamo e quello diventa da quel giorno la nostra realtà. Loro hanno di proposito modificato il nostro DNA e ora vedrete come. Hanno modificato il nostro DNA in modo che il DNA andasse a ricevere il loro segnale, quindi hanno adattato il nostro DNA al loro segnale ed ecco qui che è nata la realtà, la falsa realtà in cui noi viviamo, una realtà che è ben diversa da quella che era in origine. È lo stesso principio in base al quale si sintonizza la radio su una particolare frequenza per ricevere una stazione specifica. Se esempio, voi accendete la radio sulla stazione A, voi vi sintonizzate con la stazione A, ma il fatto che voi siate sintonizzati sulla stazione A, ecco non è che esempio la stazione B smette di esistere solo perché voi siete sintonizzati sulla stazione A, la stazione B continua ad esistere anche se voi non la ascoltando anche se voi non siete sintonizzati. Questo per dirvi che anche se oggi voi siete sintonizzati sulla stazione A, che è il mondo arcontico, il mondo che è questo mondo finto, olografico, questa prigione vibratoria che loro hanno costruito e noi ovviamente decodifichiamo proprio questa realtà che loro ci hanno manipolati a decodificare, non significa che la vera realtà non esista semplicemente, noi non siamo più sullo stesso piano vibrazionale per poterla decodificare, per poterla vedere e per poterla sperimentare. Noi geneticamente siamo stati letteralmente manipolati a vedere e quindi decodificare la realtà che loro hanno costruito per noi. Spero che sia chiaro. la banda di frequenza su cui trasmette e riceve il DNA imprigiona il corpo computer olografico in quella stessa banda che attraverso il sistema di decodificazione genetico sensoriale si manifesta nel cervello come la realtà che apparentemente stiamo sperimentando, una realtà falsa e costruita apposta per intrappolare il nostro essere. Quando il DNA iniziò a ricevere informazioni nella banda di frequenza della luce visibile all'interno dello spettro elettromagnetico, l'umanità si ritrovò così intrappolata nella matrice. Qui Ike vi propone anche dei disegni, per esempio qui quando vi parla dello spettro elettromagnetico e dell'umanità che si è ritrovata intrappolata nella matrice vi mostra un disegno. Il nostro mondo è stato sabotato introducendo false informazioni che gli esseri umani decodificheranno in una realtà fasulla. C'è anche ovviamente in questo libro c'è anche una sezione a colori che voi potete andare a vedere, vedete? Questo è il disegno, questo è l'esempio che Ike ci fa. Adesso non so se riuscirò effettivamente a trovare l'immagine che corrisponde nella sezione a colori, però ecco queste immagini anche parlano chiaro ragazzi, mamma mia, di come siamo proprio intrappolati in questa matrix. Quello che è accaduto è un po' questo ragazzi, vi faccio vedere. Sempre che il mio segnalibro non se ne vada spasso da qualche parte. Comunque questa è l'immagine, vedete? Allora noi viviamo, questa è l'umanità, noi viviamo in una realtà che è continuamente, vedete? Che è praticamente continuamente manipolata e contata dagli arconti che qui vengono rappresentati in questo modo. Tutto quello che noi sperimentiamo, tutto quello che noi vediamo in questo mondo è ciò che questa forza, questa energia ci ha manipolati geneticamente tutto ciò che noi sperimentiamo. Tutto ciò che noi sperimentiamo lo sperimentiamo perché geneticamente siamo stati manipolati in questo modo da loro. Loro governano questa realtà, questa realtà di fatto è la loro è, per intrappolare l'essere, hanno adattato noi a quella realtà. Come ci hanno adattati? Manipolandoci geneticamente. Perché ora vedrete quante cose, quanto schifo hanno operato sul nostro DNA, vedete? E queste presenze, gli arconti che qui vengono illustrati in questo modo, ci sono, sono vicino a noi. Come Ike ci ha anche rivelato, loro possono palesarsi pure nella stanzetta della vostra casa per farvi paura, per fare accrescere il senso di negatività dentro voi stessi. Proprio perché loro si nutrono di paura. Poi qui ci sono anche altri disegni, ragazzi, disegni molto, 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 insomma, disegni che fanno tanto, tanto riflettere su quella che è, no? Ecco, vedete, qui per esempio viene raffigurata Matrix. Noi viviamo qui, noi viviamo qui dentro, ma noi non siamo questo, siamo questo. Quindi noi esistiamo a prescindere da Matrix. Questa è Matrix, la nostra prigione, e infatti qui sono disegnati, vedete, i politici, l'essere intrappolato, i rettiliani, vedete? Quindi questo è il Matrix, il nostro mondo, cioè quella che è la realtà che noi decodifichiamo, ma noi siamo questo. Siamo io infinito, e noi esistiamo, continueremo ad esistere, siamo sempre esistiti a prescindere da Matrix. Matrix ha delle pareti, e queste pareti vibrazionali, ovviamente non si parla di pareti concrete perché tutto è energia, queste pareti vibrazionali possono essere abbattute, ragazzi, ma bisogna fare un grande lavoro su noi stessi per poterle abbattere. Spero di aver chiarito un po' con questi disegni, che sono molto molto belli, ragazzi, perché io a volte li guardo, proprio me li analizzo questi disegni presenti nei libri di Ike, insomma i libri di Ike ve li straconsiglio. Comunque, a questo scopo fondamentale fu, ed è tuttora, la manipolazione dell'RNA. Attenzione! E' fondamentale la manipolazione dell'RNA o acido ribonucleico. E qui ci va ad inserire un'immagine. rna, 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 questo, dna, questo. Vedete? rna, dna. Fondamentale è stata la manipolazione dell'RNA. Fondamentale, ragazzi, perché per decenni il DNA è stato considerata la star della genetica e invece l'RNA un elemento relativamente secondario, a livello proprio di importanza vi dico. Ma alcuni ricercatori stanno rivedendo le loro posizioni. Per esempio, Nakamura, professore presso la divisione di biologia molecolare dell'Istituto di Scienza Medica dell'Università di Tokyo, fa notare che la vita venne creata nel mondo dell'RNA. Il mio grande amico, ci scrive Mike Lambert, ricercatore e guaritore all'avanguardia presso una clinica sull'isola di Wight, già da molto tempo ha compreso che la forza dominante non è il DNA, ma l'RNA. E quindi possiamo dire che in breve l'RNA scrive il programma che noi chiamiamo DNA. E' l'RNA a scrivere il programma che noi decodifichiamo con la nostra antenna, quindi il DNA. E quindi è ovvio che è di fondamentale importanza manipolare cosa? Non l'antenna che riceve il segnale, ma l'RNA, cioè la parte che scrive il programma manipolato, che poi verrà, in secondo luogo, appunto percepito, meglio, catturato dall'antenna DNA. Per dirla con il linguaggio informatico, l'RNA controlla il mouse e la tastiera, mentre il DNA è ciò che appare sullo schermo. Quindi a manipolare chi è? L'RNA. Il DNA decodifica ciò che l'RNA costruisce, crea. I manipolatori arcontici dalla genetica umana dovettero modificare il programma, il DNA, attraverso chi? Il programmatore. E chi è il programmatore? L'RNA. Trovo interessante e molto significativo ciò che ritengono alcuni ricercatori, ovvero che anticamente l'RNA ricoprisse un ruolo di primaria importanza. Alla luce del fatto che la manipolazione genetica è volta a potenziare il programma, cioè il DNA, alle spese del programmatore, RNA tutto ciò ha senso. Le aziende del cartello Big Farm attualmente stanno introducendo dei farmaci per manipolare le funzioni dell'RNA, specialmente tramite la cosiddetta interferenza dell'RNA, che mira a disattivare i geni ritenuti una minaccia alla salute. Dico, qui Ike dice, dico ritenuti un problema, perché lasciare questa gente libera di occuparsi di genetica umana è come fare entrare un toro in un negozio di porcellane. Ed è vero, loro dicono noi facciamo tanto, noi creiamo farmaci che possano aiutare le persone in realtà con quei farmaci, non stanno facendo altro che abbattere azione, altro che aiutare. Poi, per carità, magari queste sono soltanto favolette, è solo complottismo da quattro soldi, però è così. e se noi vogliamo davvero che si occupino e se noi vogliamo che loro si occupino della nostra genetica, della nostra salute, beh ragazzi, fatelo pure, ma io no, no grazie. No grazie, preferisco non appoggiarmi a determinate organizzazioni. Ora ci è chiaro che se le reti arcontiche volessero disattivare quelle parti preposte alle funzioni genetiche che permettono agli umani di connettersi potentemente a una realtà ben più ampia, lo farebbero attraverso l'RNA, la manipolazione dell'RNA. Quindi, che cosa ci sta dicendo qui, Aik? Una cosa fondamentale. Lui ci sta dicendo che loro potrebbero, manipolando l'RNA, quindi il programmatore, loro potrebbero anche operare su questo RNA per disconnetterci ulteriormente dalla nostra essenza originale, dal nostro io infinito. E andandoci a disconnettere completamente dal nostro io infinito, beh, faremmo proprio la vita da schiavi. Schiavi che nascono, vivono, crescono e muoiono esclusivamente come sostentamento per loro. Ed è molto, molto grave e io sono sicura che proprio in questo periodo stanno facendo questo. Stanno operando sul programmatore, l'RNA, per andare a disconnettere sempre più gli umani da quello che realmente sono. Quindi, non un corpo fisico, ma l'eterno io infinito. Proprio come le aziende, farmacee, stanno cercando di fare oggi con le loro pozioni e i loro veleni. la banda di frequenza nell'ambito della luce visibile relativa al livello olografico della consapevolezza è molto più ristretta di quanto non lo fosse un tempo, proprio a causa della soppressione del DNA, che è un, vi ho detto, il DNA è un ricevitore e trasmettitore, attuata tramite il suo elemento governatore, cioè l'RNA. prima del sabotaggio, prima del grande sabotaggio, quindi prima della grande manipolazione genetica, gli abitanti della Terra avevano una visione, una percezione assai più ampie rispetto ad adesso e riuscivano anche ad osservare dimensioni che oggi per noi sono invisibili. Mi è quindi molto chiaro perché quella luce visibile sia una banda di frequenza così ridicolmente ristretta. Che cosa hanno fatto loro? Allora, qui Ike ci dice che in antichità l'uomo aveva una visione molto più ampia di tutto ciò che è. Riusciva addirittura a vedere cose che noi oggi non siamo più in grado di vedere. Perché non siamo più in grado di vedere? Perché la nostra genetica è stata manipolata. Quando loro si sono accorti che l'uomo aveva del potenziale e quando si sono accorti che se l'uomo rimaneva in quello stato beh, non avrebbero potuto di certo intrappolarlo in delle prigioni vibratorie in una matrix, hanno ben capito che l'unico modo per intrappolare quelle persone comunque l'umanità futura in una matrix ben costruita era manipolare quegli individui tecnologicamente quindi andandoli a manipolare sulla genetica per cercare di adattare loro ai loro piani per cercare di adattare la loro genetica al loro piano di manipolazione. Quindi cosa hanno fatto? Hanno preso quelle persone che sono sopravvissute ai vari cataclismi di cui vi ho parlato nei video precedenti hanno preso quei terrestri i terrestri di una volta e ci hanno manipolati così tanto da farci poi vedere percepire sperimentare quella che è la realtà che loro hanno costruito per noi cioè una prigione costruita con all'interno tante altre prigioni religione politica sul mondo accademico eccetera eccetera quindi loro hanno capito che l'essere non può o meglio il nostro io eterno infinito non può essere imprigionato per imprigionarci hanno quindi operato sul nostro corpo computer biologico solo in quel modo sono riusciti ad intrappolarci nella realtà che avevano preparato per noi per tenerci buoni docili eccetera eccetera spero che sia chiaro ragazzi ma penso di sì quindi Ike ci scrive nei testi antichi si legge che gli dei vivevano in mezzo a noi e tuttora occupano la stessa banda di frequenza molti di loro sono effettivamente qui sulla terra magari si trovano sotto terra ma sono qui ragazzi e alcuni effettivamente in mezzo a noi camminano in mezzo a noi magari noi li vediamo come dei semplici umani ma non sono umani nella loro reale strutture in forma d'onda quindi quindi il loro finto aspetto solido e fisico visto che solidità e fisicità non esistono si mischiano tra gli umani un po' come nel film essi vivono specialmente specialmente qui magari si fa più riferimento alla forma rettiliana però ragazzi vi ho detto gli arconti non sono solo i rettiliani ma tutte le espressioni del demiurgo semplicemente non riusciamo a vederli il corpo computer mente è stato geneticamente schermato e ora non è più in grado di decodificare la loro gamma di frequenza come invece poteva fare un tempo che significa che oggi non siamo più in grado di decodificare la loro banda di frequenza in due parole significa semplicemente che noi non possiamo vederli e che in passato i terrestri invece riuscivano a vederli in passato i terrestri riuscivano a vederli e tutte le descrizioni che ci sono oggi nei testi antichi tutte le raffigurazioni geroglifici non sono altro che le descrizioni disegni la raffigurazione di quello che i terrestri vivevano vivevano e vedevano ab origine noi oggi loro non li possiamo più vedere perché siamo stati manipolati geneticamente a non vederli più a non percepire più la loro banda di frequenza ecco perché in antichità si parla di uno spettro più ampio perché le persone riuscivano a vedere molte cose e oggi invece si parla di uno spettro molto molto ristretto che non è più in grado di farci decodificare tutto quello che c'è intorno a noi magari nella stanza qui vicino a me c'è qualcuno io non lo riesco a vedere perché non riesco a decodificare la sua frequenza cosa che magari in origine avremmo potuto fare vedete che grande regalone ci hanno fatto comunque lo stesso avviene in Cina dove il governo ha installato il cosiddetto Great Firewall quindi un termine che gioca con The Great Wall of China vabbè la grande muraglia cinese che cos'è il cosiddetto Great Firewall è un mezzo per bloccare il sistema informatico del paese e impedire alla popolazione di accedere a molti siti internet e alle informazioni che contengono sono uguali la stessa cosa è stata fatta su di noi prima magari rispetto alla Cina nelle altre parti del mondo noi quando navighiamo su internet possiamo accedere a vari siti web in Cina no c'è un limite veramente i siti in Cina sono fortemente limitati la stessa cosa è accaduta al corpo computer mente hanno manipolato la nostra genetica e hanno ristretto la nostra ricerca il nostro modo di percepire di decodificare se prima potevamo che ne so ecco vi faccio un esempio così stupido se prima potevamo leggere 20 siti web adesso ne possiamo leggere 5 e voglio essere buona esattamente ciò che è stato fatto all'umanità intera gli arconti vogliono impedirci di vedere tutto quello che ci aprirebbe gli occhi o meglio la mente ossia la verità che ci renderebbe liberi perché la verità come dice Ike rende liberi infatti uno dei titoli dei suoi libri è la verità vi renderà liberi che è tra l'altro uno dei miei libri preferiti perché proprio in quel libro si parla di storia il sabotaggio della matrice è il vero e proprio simbolo della finalità perseguita dagli arconti cioè l'inganno gli ignostici sostenevano che il demiurgo e i suoi arconti dominassero il sistema solare ma non la terra il sole e la luna dicevano che in origine la terra non apparteneva a questo sistema solare ma che fu attirata e catturata sole luna e terra in base al progetto iniziale avrebbero dovuto costituire un sistema a tre corpi celesti questo confermerebbe quanto affermo nel mio libro ricordati chi sei e cioè che la terra non è di queste parti questo se volete questa tematica la possiamo approfondire perché ho il libro ce li ho tutti quindi la possiamo approfondire quando Ike dice che la terra non è di queste parti beh è molto interessante come tematica è certamente vero che la terra il sole e la luna sono accomunati da straordinarie coincidenze di queste coincidenze io ve ne ho parlato sul mio secondo canale quando vi ho parlato proprio anche di queste scoperte dal punto di vista matematico che sono state fatte tra sole luna e terra abbiamo visto che la luna non è assolutamente un corpo celeste come viene definita ancora da alcuni ma ben altro e se non avete visto quel video sul mio secondo canale andate a dare un'occhiata se vi va quindi appunto in questo video non solo parliamo di queste coincidenze ma anche delle connessioni matematiche geometriche non applicabili a nessun altro corpo celeste nel sistema solare voglio dire osservate la terra perché è così incredibilmente diversa dal resto del sistema solare i testi gnostici affermano che gli umani vivevano in un regno organico mentre il mondo degli arconti è inorganico tra le varie definizioni del termine inorganico troviamo relativo a composti che non contengono idrocarburi e non seguono una normale crescita quindi artificiale inorganico significa artificiale come questa matrix come questo mondo certamente ciò collima con la descrizione gnostica degli arconti cioè una struttura completamente manipolata ora questo video è molto importante è stato molto importante proprio perché vi ha dato modo di capire innanzitutto l'importanza dell'RNA a differenza di quello che ancora oggi molti sostengono perché l'RNA abbiamo visto il programmatore il programma è il DNA ma è il programmatore RNA che va a costruire va a creare quel programma che poi con l'antenna di DNA andiamo a decodificare quindi innanzitutto l'importanza dell'RNA ma poi abbiamo capito come hanno operato per imprigionarci in questa falsa matrice falsa matrice dominata da questa finta solidità eccetera eccetera ci hanno letteralmente manipolati dal punto di vista genetico e chi vi dice che non possono fare la stessa cosa nel presente per manipolare l'essere in futuro magari anche adesso stanno con i vari mezzucci andando a manipolare la nostra genetica con dei mezzi tecnologici più raffinati più insomma diciamo così mezzi tecnologici non visibili all'occhio umano perché noi sappiamo che anche in un liquido può essere contenuta nanotecnologia chissà quanto altro schifo e attraverso questi mezzucci loro possono e lo fanno secondo me manipolare la nostra genetica quindi se già hanno ristretto la nostra banda di decodificazione voi immaginate quello che ancora potrebbero fare potrebbero completamente annullarci dal punto di vista dell'essere facendoci vivere una vita come se fossimo degli automi dei robot dei veri e propri robot nelle loro mani quindi anche se noi di natura siamo persone buone che non farebbero male ad una mosca se questo piano dovrebbe o non dovrebbe se questo piano dovesse attuarsi in futuro noi potremmo anche essere manipolati a fare a compiere le cose più atroci anche se queste vanno contro la nostra natura e perché le faremo perché saremo stati manipolati a farlo e perché perché avremmo dato a quel punto il consenso a loro di annullare la nostra vera essenza di annullare la nostra vera natura e che cosa intendo quando vi parlo di annullare la nostra vera natura noi anche se siamo in questo corpo fisico dentro di noi c'è traccia del nostro vero infinito ovviamente prima di essere introdotti in questa esperienza in forma umana sono sicura del fatto che gli umani sono stati sottoposti ad un grande lavaggio del cervello che oggi è conosciuta come la grande amnesia ora noi non abbiamo per esempio ricordi delle nostre esperienze passate non abbiamo ricordi della nostra casa universale cioè del luogo da dove tutti noi proveniamo non lo ricordiamo ma l'informazione cioè quello che noi abbiamo vissuto nelle vite passate da dove proveniamo tutte queste informazioni ok sono dentro di noi noi non le ricordiamo perché siamo stati sottoposti ad amnesia e siamo limitati da questo corpo limitante che ci fa percepire una realtà limitata ma attenzione il nostro corpo è un limite che ci fa percepire la realtà limitata attraverso i cinque sensi che sono sensi limitanti di tutto ciò che è ma dentro a questo corpo c'è il nostro vero io infinito il nostro vero io infinito racchiude tutta l'essenza di ciò che siamo di ciò che eravamo di ciò che siamo di ciò che saremo delle nostre esperienze passate delle esperienze che abbiamo vissuto eccetera eccetera quindi dentro di noi è codificato tutto 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 ragazzi è semplicemente il nostro cervello perché il cervello è il decodificatore del nostro corpo computer biologico noi quando per esempio mangiamo qualcosa e quel qualcosa ci sa di limone noi capiamo che quella cosa sa di limone perché il nostro cervello è a decodificare il gusto del limone la stessa cosa quando tocchiamo qualcosa per esempio io sto toccando il mio quaderno e percepisco che ha la copertina rigida ma nel senso perché percepisco che ha la copertina rigida perché è il cervello che decodifica questa copertina come rigida quindi i sensi mandano informazioni al cervello esempio io sto toccando il fatto di toccare poi manda informazioni al cervello il tatto come anche la vista ecco io sto vedendo una determinata cosa gli occhi mandano l'informazione al cervello e poi il cervello la decodifica come parete come cuscino come tenda come sedia eccetera eccetera ma è il cervello che decodifica e noi se pensiamo al fatto che anche il cervello non si esprime al suo massimo potenziale potete ben capire o potete soltanto immaginare a quale prigione in quale prigione siamo stati rinchiusi non solo dal punto di vista genetico ma dal punto di vista anche del cervello del potenziale del nostro cervello che è limitato ad una piccolissima banda di frequenza e di decodificazione della realtà perché noi non riusciamo praticamente a decodificare quasi nulla di ciò che è reale quella che oggi viene definita luce visibile come poi vedremo è l'inganno quando si dice segui la luce segui la luce no ragazzi il contrario seguire la luce in questa matrix vuol dire seguire vedere decodificare la matrix quando si fanno discorsi l'oscurità e negatività la luce invece bellezza e positività beh in questa matrix è tutto il contrario perché per esempio in questo caso la luce mi permette di vedere questa stanza come la luce in generale ci permette di vedere il mondo ci permette di vedere di decodificare matrix la prigione vibrazionale in cui tutti quanti noi siamo stati programmati a vivere ok quindi noi viviamo in un limite ma attenzione non identificatevi mai con questo limite perché voi vivete in un limite attraverso il corpo umano ma voi non siete il vostro corpo non siete quel limite voi potete superare quel limite ma dovete farlo altrimenti arriverà un futuro molto buio e oscuro in cui non riusciremo più nemmeno a fare questo non riusciremo nemmeno più a fare i ragionamenti più semplici perché perché ancora una volta la nostra genetica verrà manipolata in modo tale da non permetterci di fare costruire e pensare in questo modo perché loro lo hanno fatto in passato e lo possono fare ancora loro non possono intaccare il nostro vero io eterno infinito ma possono intaccare la nostra struttura biologica e nella nostra struttura biologica che noi ci manifestiamo in questa realtà e quindi possono manipolare attraverso la loro sporca e losca tecnologia quello che è il nostro computer biologico cioè il nostro corpo quindi fate molta attenzione a non identificarvi con questa matrice perché voi non siete la matrice voi siete io eterno ed infinito il vostro corpo è il mezzo che vi sta permettendo di sperimentare questa realtà ma questa realtà è una realtà che è una prigione è una realtà che è stata sabotata in origine da questi individui è come se si fosse insinuata nella realtà originaria questa distorsione la distorsione non è altro che il demiurgo e il demiurgo poi ha dato vita cosa ad altre distorsioni cioè gli arconti ecco perché vi dico che anche un umano può essere un arconte se agisce come distorsione o come espressione del demiurgo bene spero di essere stata chiara spero che vi sia chiaro anche il insomma tutto quello che vi ho detto riguardo all'RNA all'ina spero davvero perché è molto importante comprendere queste tematiche continueremo comunque a parlare di tantissime cose interessanti nei prossimi video quindi ragazzi io per il momento vi saluto vi auguro un buon proseguimento se qualcosa non vi è chiaro vi prego di scrivermelo sotto nei commenti perché io voglio che queste tematiche siano chiare a tutti perché soltanto comprendendo queste tematiche potete comprendere il sabotaggio originale quello che noi vediamo che cos'è quello che noi oggi vediamo che cos'è quello che noi oggi sperimentiamo quindi soltanto in questo modo riuscite a comprendere a decodificare un po' questa matrix a decodificarne le pareti che apparentemente sono invisibili ma ci sono perché questa è di fatto una prigione che come diceva Morpheus non ha odori non la vediamo non la percepiamo come una prigione ma di fatto lo è quindi se non è chiaro qualcosa tranquilli scrivetemelo sotto nei commenti e magari dedicherò un approfondimento a quella cosa che non avete capito un bacione un abbraccio e alla prossima non la vediamo Grazie.